di cercare di riaprire la speranza e di fare un'indagine serie approfondita, cosa che non era avvenuto precedentemente. Cosa chiederete adesso a PM? Un incontro di saluto, ragioneremo con lui sul da farsi, cercheremo di dare il nostro contributo, faremo anche noi delle indagini, ma solo di supporto, di contorno a quello che la procura di Varese vuole fare, come dice il dottor Petrucci, che si è dimostrato insieme al procuratore Manfredda e al procuratore di Varese molto sensibile e aperto, come giusto che sia, ad un approfondimento di questa vicenda alla luce di nuove situazioni che si stanno creando.